Chiara Ferragni ha improvvisamente smesso di pubblicare sui suoi profili social lasciando i suoi milioni di followers senza aggiornamenti da circa due giorni. Questa pausa coincide con la notizia della chiusura dell'istruttoria sulle uova pasquali conclusasi con il versamento di 1,2 milioni di euro a favore dell'organizzazione, i bambini delle fate. La decisione ha scatenato polemiche e critiche con molti accusatori che vedono questo gesto come un patteggiamento piuttosto che una donazione spontanea. A seguito del comunicato dell'antitrust, l'influencer ha ricevuto una valanga di insulti e critiche sui social portandola a ritirarsi momentaneamente dalla scena pubblica online. Tuttavia la sua vita continua nel mondo reale. Chiara si trova attualmente a Palma de Mallorca in Spagna per partecipare all'addio al nubilato della sua cara amica Veronica Ferraro. Nonostante il silenzio sui social, la Ferragni continua a vivere le sue esperienze, seppur lontana dagli occhi del pubblico digitale che la segue con costanti interesse. Resta da vedere quando e come tornerà a condividere la sua quotidianità con i followers, riprendendo il suo ruolo di imprenditrice digitale e influencer.